leggi davvero lo stesso libro tutti i giorni certamente ti va di leggerlo anche a me per favore il signore è il mio pastore non manco di nulla su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce rinfranca la mia anima mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me è bellissimo ti piace l'hai scritto tu sì certo davvero no 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 è stato scritto molto prima che io e te arrivassimo sulla terra questo è sicuro